Infine il calcio, il campionato di Serie A, colpo grosso del Verona ieri sera al Bentegodi nel posticipo della quarta giornata di ritorno. Gli scaligeri fanno l'impresa, battono la Juventus per 2-1 e riaprono clamorosamente la lotta. Scudetto di questo potrebbe abbandaggiarsi nell'Inter attesa nel posticipo nel derby milanese contro il Milan. Tra gli altri risultati di ieri, importanti successi per l'Atalanta che vince a Firenze contro la Juventina e la Sampdoria che in chiave salvezza batte il Torino per 3-1 nonostante il cambio di allenatore. Oggi le altre gare con particolare attenzione per il Napoli atteso al confronto interno con il Lecce e poi le sfide salvezza spalse a suolo Brescia-Udinese-Genoa-Cagliari mentre in chiave europea alle 18 Parma-Lazio. Vi ricordo come sempre che per tutto il quadro della giornata sportiva, vi rimandiamo a Sport Report, il nostro telegiornale sportivo alle 13.30. È tutto per questa edizione del nostro giornale, grazie per essere stati con noi e buona mattinata.